Nasce un nuovo festival, si chiama Milano Rocks, è prodotto da Livenation come il gemello Firenze Rocks. Si svolgerà a settembre all'Open Air Teatre dell'Area Expo, dove a giugno invece arriveranno i Pearl Gem e altri per gli Ideas. Il promoter ha annunciato il primo Adliner, i 30 Seconds to Mars si esibiranno l'8 settembre, con biglietti in prevendita per gli iscritti a Milivenation dalle ore 9 di mercoledì 31 gennaio e vendita generale dalle ore 9 di venerdì 2 febbraio 2018. La band di Yared Leto ha già due appuntamenti fissati, il 16 marzo al Pallalottomatica di Roma e il 17 marzo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, boh! Ecco il logo del nuovo festival, speculare a quello di Firenze Rocks.